ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture vi saluto tutti quanti sia i nuovi sia chi mi segue da tanto tempo saluto tutti quanti vi ringrazio di essere qua ricordo a tutti di iscriversi al canale e attivare la campanellina cliccando su tutte visitate anche quinta dimensione letture punto it perché questo canale youtube lavora insieme al sito web che gestisco tutto io ovviamente mettendo sempre dei contributi sempre nuovi a volte anche meno nuovi insomma cose che possono aiutarvi che contribuiscono alla vostra crescita decreti recitazioni aggiornamenti sulla situazione planetaria aggiornamenti sull'ascensione sintomi cose da recitare insomma tante informazioni va bene quindi vi ricordo tutti quanti queste queste cose leggete alla descrizione del video per vedere come poter parlare con me per le informazioni su come parlare con me e tanti altri servizi che offro ricordo a tutti che è possibile anche fare comunque dei percorsi come fanno in tanti mensili anche di crescita insieme a me e che andiamo insomma insieme facciamo un percorso insieme verso l'ascensione vi porto dei messaggi delle canalizzazioni insomma in diretta con voi al telefono tante cose proprio studenti spirituali allora anime oggi vi chiedo in modo particolare di stare molto attente perché questo è un decreto di una potenza immensa immensa è un decreto molto forte uscito già da tanti anni brevemente per capire di cosa sto parlando mi faccio riferimento chi già mi segue sul sito web lo sa perché è scritto là io traduco in italiano i post di cobra che un nome in codice non significa cobra nel senso serpente è un altro è un altro codice allora movimento di resistenza comunque che ci informa anche di quello che sta accadendo al di là del velo con le forze galattiche le forze della luce benevole quindi esseri galattici benevoli su questa diciamo non mi piace dire guerra ma insomma su questo scontro diciamo così tra le forze della luce benevole e le forze oscure oggi facciamo una cosa di una potenza immensa abbiamo già avuto dei risultati si sono già visti negli anni dei risultati delle testimonianze sull'uso di questo decreto che vi do oggi vi prego di tenervelo sempre in prima lista dappertutto mettetevelo salvatevelo scrivetevelo e adesso vi spiego come si fa prima vi dico che cos'è praticamente è un decreto di cancellazione del contratto oscuro che cos'è allora molti semistellari soprattutto perché qui siamo proprio sul galattico veramente ma non solo quindi anche molti operatori di luce molti terrestri comunque cosa succede che insomma in tante vite in tante incarnazioni tante della nostra anima comunque abbiamo sempre avuto a che fare tutti ce l'abbiamo avuto a che fare con le oscurità forze oscure e a volte succede che si fanno anche dei patti si possono aver fatti che ne so milioni di anni fa dei patti anche involontari questo vi vi riporta per chi lo sa anche al decreto dell'arcangelo raziel è una cosa più o meno di quel tipo la con l'arcangelo raziel che si vanno ad annullare voti patti eccetera però anche più a livello terrestre quindi con familiari anime insomma che ci ritroviamo in questa terra molto spesso e tra l'altro lo si chiede proprio all'arcangelo invece qua facciamo proprio tutta la nostra storia galattica tutta la nostra storia della nostra anima quindi lo deve fare anche chi non sa se è uno star seed o no perché è molto importante il vostro decretare il vostro parlare gli star seed è imperativo quasi di farlo però insomma io lo consiglio a tutti a tutti anche chi non è magari un seme stellare è molto importante questo decreto che è stato dato proprio dalle forze galattiche di luce a questo movimento che si fa chiamare cobra che esiste proprio dal 2012 e ci aiuta proprio in questi ci informa sempre di quello che succede questo decreto vi annulla qualsiasi contratto fatto anche con forze malevole anche oscurità galattiche spider come si chiamano nel gergo nostro insomma di chi lavora con queste cose ragni impianti e se fate un giro chi di voi parla inglese o anche spagnolo faccia un giro su certi siti abbastanza importanti anche se vi consiglio sempre comunque cobra che è sempre il numero 1 2012 portal però insomma sappiamo bene in questo campo chi sono gli oscuri chi sono i ragni chi sono gli spider che tipo di impianti ci sono abbiamo anche degli impianti magari piccolissimi proprio per non permetterci di venire alla luce va bene di farci ricordare cadere nella dimenticanza comunque quando veniamo poi sulla terra no in modo che noi facciamo diciamo una fine così insomma di sofferenza in questa vita terrestre invece con questo decreto potentissimo di annullamento in ogni contratto proprio con le forze oscure oscure noi con questo contratto proprio recidiamo tutto adesso vi spiego come si fa non basta una volta però non c'è neanche un limite nel senso non c'è da farlo per 21 giorni sarebbe da farlo per almeno un mese ascoltatemi bene perché non ripeto non mi fate le stesse domande poi nei commenti perché lo dico bisogna ascoltare allora un mese questo decreto una volta al giorno volendo anche più volte al giorno imperativo che venga fatto a voce alta normale cioè no alta urlato è normale così come sto parlando io con questo tono di voce normale quindi dovete trovarvi un angoletto un momento è che lo potete fare almeno un mese ma è talmente bello è talmente potente che finché vi sentite magari presi da queste forze dovreste farlo lo stesso anche se già è un mese che lo fate esempio ma sentite ancora dei fastidi va benissimo anche continuarlo per più tempo allora vi leggo anche delle cose che mi sono appuntata io su questo potentissimo decreto di questa dichiarazione che è stato appunto confermato già da molte persone addirittura ci sono state delle persone sensitive maestri che quando hanno detto questo questo decreto più volte non sono stati poi più attaccati più cercando anche se sono nella luce anche persone che hanno un'alta luce e un'alta energia anche se a volte diciamo sono proprio i preferiti di questi di questi mangiatori e quindi hanno notato un effetto ancora migliore pur continuando a rimanere nella luce ma a volte sappiamo bene chi si trova in questa situazione cioè che è di luce e ha fatto già un percorso molto importante e sa che ogni tanto comunque qualche attacco potrebbe venire allora persone che hanno delle visioni è stato appurato anche questo da testimonianze persone che hanno delle visioni di cose oscure che ne so in camera quando vado a dormire vedo delle cose su in alto che camminano vedo le ombre di là vedo cose strane qua hanno detto e testimoniato che dopo la recitazione di questo decreto non ha visto più nulla quindi sono sparite queste cose maligne queste cose negative allora appunto ricordavo che bisogna farlo regolarmente se vuoi se ti senti ispirato o ispirato anche più volte al giorno però almeno un mese e ripeto ad alta voce non nella mente così ad alta voce va bene ultima cosa e poi passiamo alla recitazione è stato visto sempre e testimoniato che questa dichiarazione questo decreto che faremo lavora molto bene con la fiamma viola ok infatti ho messo lo sfondo viola proprio per quello lavora molto bene con la fiamma viola perciò sarebbe bene che quando si decreta però non è obbligatorio non è obbligatorio però è una cosa in più per chi vuole lo dico a chi vuole può anche visualizzare questa fiamma viola che ti purifica che ti brucia invocare il maestro asceso san germen ok il maestro asceso chiamarlo in nome della tua presenza io sono chiami il maestro asceso san germen e chiedi che con la fiamma viola tu possa essere purificata o purificato va bene è un bene utilizzarlo insieme non è obbligatorio lo ricordo non è obbligatorio fare la dichiarazione e la fiamma viola insieme ma sicuramente aiuta molto ok lo dico a chi riesce a visualizzare molto bene anche l'ametista per esempio è una pietra che va molto bene quando si fa questo tipo di dichiarazione proprio perché ci aiuta con la fiamma viola ci porta le energie di purificazione e spirituali va bene ecco un'altra cosa in più da dire a voi allora adesso prendo il mio quadernino dopo ovviamente faremo un messaggio canalizzato da me dei messaggi divini e scegli poi una carta dopo adesso facciamo il decreto lo metto per intero e per iscritto anche qua sotto sempre che poi lo spazio dipende vedo o se no anche nel sito web quindi a dimensioneletture.it tutto completo lì lo metto sicuramente qua sotto vedo se c'entra tutto ok altrimenti si va a vedere di là comunque voi trascrivetevelo nel sito web volevo dire trascrivetevelo comunque se serve ve lo mettete nel vostro quadernino c'è gente che con me fa un sacco di lavori e si fa proprio tutti gli appunti i quadernini quindi questo sarebbe da metterlo per iscritto e partiamo facciamo ovviamente un richiamo al maestro san germen chiamiamo il maestro san germen e cerchiamo di visualizzare occhi chiusi anch'io in questo momento sono occhi chiusi la fiamma viola chiediamo in nome della mia presenza io sono amato maestro san germen vieni e invoco la fiamma viola della trasmutazione perché trasmuti tutto ciò che non è perfezione divina qui e ora cancellazione del contratto oscuro nel nome della mia presenza io sono nel nome della mia anima nel nome della sorgente nel nome di tutti gli esseri di luce io cancello e annullo tutti i miei contratti iniziali con le forze oscure tutti i miei contratti con le forze oscure sono ora cancellati e annullati tutte le conseguenze di questi contratti passate presenti e future ora sono cancellate così sia e così è io sono visualizziamo la fiamma viola che ci purifica che ci permea visualizziamo il maestro san germen e vediamoci immersi di fiamma viola tutto il corpo allora anime ricordo che va fatto una volta al giorno almeno tutti i giorni per un mese se senti durante la giornata di volerlo rifare senti un richiamo un qualcosa fallo va bene e fallo anche oltre un mese se senti che hai ancora bisogno di ripulirti questi contratti sono micidiali sono proprio anche impianti questo toglie anche gli impianti magari se è stato fatto è stato fatto un accordo per un impianto no e quindi anche un semestellare viene sulla terra comunque sempre con l'impianto che lo fa risvegliare che ne so tardissimo o neanche proprio che si risveglia quindi questi sono proprio abbiamo tante testimonianze anche da canalizzazioni di cobra sul sito appunto ricordo 2012 portal che insomma che questi spider cosiddetti questi ragni questi impianti che abbiamo dentro sono proprio a forma di ragno ok sono anche magari piccolissimi chip eccetera eccetera tutte queste cose non sono fantascienza anime non sono fantascienza ok e ci muovono e ci controllano attraverso anche questi tipi di cose questo è un video che è un po' che voglio fare ma ho aspettato il momento giusto il momento perfetto per proporvelo mi auguro che condividiate mi auguro che lo facciate e insomma che lo passiate anche a chi può servire più ne liberiamo meglio è non è difficile liberarsene però bisogna decretare con fiducia con fede con convinzione e non a papera a recitare così bisogna visualizzarsi per bene belli ripuliti belli lucenti va bene allora adesso scegli una carta o anche più di una per vedere il messaggio quindi una o più di una senza testimone scegli la posizione la 1 la 2 la 3 la 4 partiamo per chi scelto la carta 1 il messaggio qual è? ero io quel soffio di vento 11 22 numeri maestri chi è aiuto agli angeli carta numero 1 questo è il messaggio si rivolge a chi ha sentito qualcosa a chi ha percepito qualcosa magari anche attenzione recitando proprio questa dichiarazione va bene potrebbe anche essere che possiate sentire anche qualcosa è molto importante lo ricordo molto importante soprattutto per chi è di base galattica ma funziona per tutti e attenzione anche per gli altri andiamo col messaggio numero 2 ti sto comunicando con i numeri cerca il significato guardate di nuovo abbiamo gli 11 11 11 ti sto mandando segnali bene qui chi sta ricevendo e vedendo tante volte i numeri qui si basa proprio sui numeri questa è l'informazione della carta numero 2 chi l'ha scelta cercare il significato dei numeri vai nella playlist i numeri degli angeli che è sul mio canale quinta dimensione letture va bene? così puoi vedere i numeri che tu vedi non solo 11 11 anche altri numeri vai a vedere cosa significa il messaggio angelico qual è? quello devi andare a cercare qua ti sta dicendo di andare a vedere ti sto mandando segnali cerca il significato quindi c'è qualcosa che devi andare a scoprire carta numero 2 ok? la carta numero 3 se stai ascoltando questo messaggio non è un caso ecco quindi qua chi ha fatto il 3 deve fare per forza l'eliminazione di tutti questi impianti e contratti se stai ascoltando questo messaggio non è un caso 2 22 4 2 2 4 anche qua andiamo sempre sui numeri angelici col 2 che avevamo anche di qua metti in pratica ciò che ti viene detto adesso ecco qui quindi inutile girarci intorno c'è da farlo qua se hai ascoltato proprio questo video non è un caso nel modo più assoluto soprattutto per te va bene? carta 3 metti in pratica questa cancellazione questa dichiarazione va bene? del contratto oscuro andiamo avanti la carta numero 4 in te si sono risvegliate capacità spirituali e psichiche 17 17 allineamento ai corpi spirituali più alti quindi benissimo carta numero 4 proprio ora è il momento migliore per cominciare a recitare la cancellazione del contratto oscuro va bene? perché adesso ti stai allineando con le energie più alte con le vibrazioni più alte e hai un allineamento ai corpi spirituali più alti quindi è necessario che in questo momento proprio per te tu riesca a fare questo passaggio questo allineamento in modo più dolce possibile più indolore possibile e quindi ti conviene proprio recitarlo questo decreto va bene? perché hai proprio queste capacità risvegliate capacità spirituali e psichiche quindi mi raccomando segui l'esempio sto guardando che tutto sul blu azzurro qua sono venute queste carte questi erano i messaggi anime mi raccomando seguite il consiglio recitate allora questo può essere fatto anche insieme ad altri cioè chi già ne fa altri può tranquillamente farlo aggiungere agli altri va bene? ricordo non solo i semi stellari anche gli altri operatori di luce ma anche no è proprio un contratto che insomma chissà della reincarnazione che ci crede sa benissimo che in tante vite che possiamo aver avuto chissà che cosa abbiamo siamo andati a stipulare proprio con le forze oscure mentre quello di Rasel è più un discorso proprio animico con le anime che ci ritroviamo qua in questa vita fratelli, sorelle, mogli, mariti, amici ex, questo, quell'altro va bene? qui andiamo proprio ancora più sul profondo e andiamo proprio a risalire proprio anche a livello proprio più alto più profondo proprio di qualche impianto, contratto cose più a livello ripeto anche galattico è stellare di milioni di vite però ripeto va bene per tutti non guardiamo queste cose qua va bene? vi ricordo appunto che l'ho preso proprio il 2012 portal di cui traduco proprio ogni tanto i post più importanti sull'aggiornamento quando vedete sul mio sito web aggiornamento sulla situazione planetaria è proprio la diciamo la traduzione proprio di quel testo là di cobra quindi è molto importante per rimanere sempre sul pezzo per sapere sempre dove stiamo andando cosa sta succedendo è molto importante care anime grazie mille per questo video fatemi sapere poi se anche voi come molti altri hanno testimoniato o anche gli effetti che vi danno sia nell'immediato nel breve termine ma riscrivete pure sotto questo video commentate anche se è passato non so sei mesi va bene scrivetelo sotto perché non è detto che subito succede no e quindi dipende scrivete pure anche a voi che effetto farà questa bellissima dichiarazione proprio eh vi posso assicurare che funziona sapete quello che vi metto è sempre già testato va bene sia da me ma anche da altre persone di mia fiducia che so benissimo va bene grazie anime ancora vi aspetto presto per un prossimo video qua su quinta dimensione letture tantissima luce a tutti quanti ciao a presto